Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuova partita in live su Call of Duty Black Ops 2 Oggi giocheremo nuovamente su Slums, se non ricordo male pure nello scorso video abbiamo giocato su questa mappa Che è molto bella, su c'è il cecco, c'ho paura che... oh, doppio cecco... Sì, vabbè regà, ma iniziamo così! Su, ma su, ma che è? Non è morto il secondo cecchino! Ma che cacchio! Mannaggia, oh! Che pazienza che ce voglio, iniziamo subito con le madonne, subito con le madonne, ma che è? Subito cecchini a gogo, subito cecchini a gogo, subito cecchini a gogo Porco canaccio luridissimo! Cecchini, come se piovesse su questa mappa, eh? Cecchini come se piovesse Esci fuori Esci fuori Arrope la... sì, questo già mi stava a sparare Già sapeva da dove venivo Già, qua, qua, bravo, bravo, bravissimo, bravo, bravo Bravo, bravo Qua regà, star panico, eh Voglio star panico, andiamo via da qua Andiamo via da qua, ne vengono due da destra Un po' da sinistra Oh! Oh! Come muori? Sono finiti? Che cacchio Ricariciamo velocemente, dai! Sempre tutti a me che rompono Via, via, via da qua, via da qua Chi è che rompe? L'anima Ok, l'ha ucciso Perfetto, attento qua Attento che muoiono da qua Coremo Coremo No! Un'altra uccisione Via Che cacchio Su, e dai però Mannaggia la miseria, oh Mannaggia la miseria Non si riesce a giocare Non si riesce a giocare Su 30 colpi di Scarac Niente Nada Nada de nada Nada de nada Gente che abbandona la partita Soprattutto quello col pompa che mi ha ammazzato Grazie a te Che mi hai rovinato la serie E poi ti sei andato a abbandonare Grazie mille Grazie Su Su Uccisione confermata Aia Aia Uccisione confermata Perfetto Andiamo Andiamo adesso Andiamo adesso Andiamo adesso Sperando che non ci sta qualcuno fermo Che cacchio Non si riesce a fare una partita di fila Decente Una decente Ormai sono Sono tutte indecenti Sono tutte indecenti Ormai le partite Su Grande Su E muori Perfetto Ok Torretta almeno presa Almeno quella ragazzi Almeno quella Allora La rimettiamo dove l'abbiamo sempre messa Quindi qua Come i vecchi tempi Ne utilizziamo veramente tantissime Ma penso che Le MP ce l'hanno Quindi Stiamo un po' fregatini Però se rinasce qualcuno da sotto E riuscimo a fare qualche bella kill Non male con la torretta Senza ne accorge subito Allora Qua stanno arrivando Via Via che ci hanno visto Via che ci hanno visto Via da qua Oh Mi sa Morite Dai Mamma Visat Visat Ok Bello Dai Bello Così Mo mi piace Quando cominciamo a andare in serie Mi piace la cosa Quando cominciamo ad andare in serie Mi piace No No Cretinata Che ho fatto Cretinata Potevamo andare Molto bene Potevamo andare molto bene Allora sta arrivando qualcuno qua Oh Dai E dai Mamma mia Ma che divertimento c'è sta Sapermo dietro a quel coso 45 27 Dai Spacca tutti Spaccali Sfonnali Devastali Lanciate altri Lanciate altri Visat Su Su Morite Morite Mamma mia Vesponno Vesponno No Era mia quella Vediamo un po' se la torretta Sta facendo qualcosì Minha giù Sta arrivando uno da qua Bello Bene Bene così Andiamo 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 Attenti no Sono arrivati tutti da te qua Tutti da te qua Tutti da te qua Se tutti da te qua Cacchio No Ok Faccio ricordimento Famo il giro Famo il giro Famo il giro Pianata la torretta Ok Ok No 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 Bene No Sono andato a finire proprio dove stavano tutti quanti 56 32 56 32 Non ne mettiamo una qua all'angolo ragazzi Che qua fa molto bene Ok Forza Mamma Mamma mia Aspetta che ricarico Questa gente sta chiacchierà Ok Possiamo andare Possiamo procedere Due qui Due qui Due qui Corri Corri E sta attento Corri E sta attento Corri E sta attento Bravo Aspetta uno qua Dai 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 Namo Questo qua dentro è morto Sì Ci sta più Senza colpi Andatemi una ricaricatina veloce Namo 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 Su E muori Perfetto Dai Ok Dai 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 Oh Oh No 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 Tutti sono rinati Sono rinati tutti Mannaggia Perché non li fa rinasce giù Che almeno c'ho quelle due torrette E li chiudemo bene Nella loro metà campo Su E muori Bello Tripla dell'amante Non so come Non so come ragazzi Però tripla dell'amante Bene Forza Oh E dai Ma dietro Dai Come hai fatto Su Io A me mi sembrava che stavo dietro Vedi Come la connessione De sbarella Stavo dietro Stavo Ma che cacchio è Stavo dietro al camion Per me Invece no Per lui Praticamente Gli potevo sparare tranquillamente Mannaggia Che cacchio Mannaggia Quello Vieni Vai Vai giù Oh A questo Spoggia Via Caricato No No Bene Oh Stavo andando bene in serie Stiamo a fare 43-11 43-11 è un bel po' che non lo facevamo È una bella partita Nonostante Le serie non è che non lanciate Tantissime Ho lanciate solamente una Una piena Oh basta Basta Ero un bel armi I miei compagni E dai Questo già sta a sparare 82-53 Potremmo riuscire 44-44 Potremmo anche provare Aspetta che Sposto la torretta Che Purtroppo Se quelli rinascono tutti da là Ma li ammazziamo tutti Che non è possibile Che non mi rinasce Nessuno Da giù Ok Perfetto Guarda Mi rinascono giù Guarda come rosico Guarda come rosico Che mi rinascono tutti giù Bene Piano Ah Il camper Il camper Vai torretta Ammazzali tutti Va Grande Proprio sul punto di respon Così almeno Non c'è sta scampo Via 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 La torretta Da tantissimo Non le utilizzavo Però è epica Se riesce bene In tracce In partita I nemici utilizzano Pochissimo le MP C'è se fanno danni veri C'è se fanno Ah prendi la piastrina Per fare La novantacinquesima kill Novantacinquesima Vai E qua Ok Vuoto Novantasettesima piastrina Siamo a 50 eh 50 kill Non male Non male Dopo un bel po' Finalmente Ci siamo risvegliati Però quando capitano le partite Che si riesce a giocare bene È tutta un'altra cosa Ok Ragazzi Spero che il video Sassi a vostro gradimento E se vi è piaciuto Iscrivetevi sul mio canale E mettete un bel mi piace sul mio video E ci vediamo con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale E ci vediamo con tanti nuovi video